Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita, in genere, di una persona cara. Il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di notevole rilevanza, sia in ambito psicologico sia antropologico. Nelle culture occidentali viene solitamente associato al colore nero. Pelé è morto all'età di 82 anni, a causa di un tumore al colon diagnosticato nel settembre 2021, considerato da molti come il miglior calciatore di tutti i tempi. Edson Arantes do nascimento, detto Pelé, era un ragazza innamorato dal calcio, diventato ricco e famoso proprio grazie a quel pallone che aveva sempre rincorso, fin da bambino. Grazie. Grazie a tutti.